Ciao a tutti, ciao a tutti amici! Adesso per finire con queste cavolo di gif animati che non piacciono a nessuno, faremo l'ultimo esperimento. Gif animati che non piacciono a nessuno in addizione alle cose 3D che non piacciono a nessuno. Va bene, lo stesso. Allora, ho scattato due foto, non direttamente in 3D come fa la fotocamera, bloggy, perché fa un formato, sembra un JPEG normalissimo, con un altro formato che si chiama MPO, no? Allora, dopo non viene. Allora ho scattato due foto manualmente, un po' decentrate. Ecco, questo potete vedere la mia bottiglietta di Viagra. Allora, no? Quello per l'occhio sinistro, quale sarà? Non lo so. Praticamente facciamo due GIFT. Allora, per fare la GIFT dovete, ok, pigliate un'immagine, questa qua, poi pigliate l'altra immagine e la schiaffate sopra. Poi, teoricamente, dovreste metterla abbastanza una sopra l'altra, quindi possiamo mettere la opacità un po' così, quindi possiamo... Cioè, non dico sopra l'altra, però dico allineate la stessa altezza, no? Poi dopo si sposta, perché dovete lasciare lo spostamento, ok. Rimettete a 100, adesso lo faccio molto sempliciotta, via questo. Allora, adesso qui, no, questo è il primo frame, poi ne schiamiamo uno secondo, che è questo qui, e basta. Lanciandolo, viene una merda. Che teoricamente... Vabbè, su... Allora, mettiamolo un po' più di qua. Teoricamente questo è un effetto che... Però... La prima foto è anche più chiara della seconda. Proviamo a smuodere un po' così, questo, così, ecco. Che teoricamente dà l'effetto un po' 3D, però a livelli proprio scarsi. Si vede come fa la roba. Proviamo l'altra foto. Non salvare sta merda. Non salvare sta merda. Checchè. Ok. Adesso la mettiamo sopra. Questa non è che va troppo veloce. Eh, il 3D così... Penso a un filmato tutto così. Un filmato di due ore così. Perché l'idea nasce da... Adesso non so se riesco a trovarlo. A parte del fatto che questo sito qua mettete... Mettete l'MPO, quello che fa la Bloggy, e vi fa il filmato picco picco... Che è un po' 3D... Però pensavo di accelerarlo. Perché ho visto in giro... 3D... Foto... GIF... Ovviamente non la troverò neanche morta. Ma c'erano alcune che non erano fatte male. Fatte malissimo. Piccaccio. Ah, ecco. Ecco, vedete? Se lo fa veloce... C'ha... C'ha l'effetto un po' 3D, no? Ah, sono schiamati shaky grams. Allora cerchiamo altri shaky grams. No, un po' lo fa. Ma guarda questa. Guarda questa. Guarda questa. Sto shaky grams. Guarda questa. Guarda questa. Comunque io vi ho detto... Più o meno come fare. Sta a voi. Non è che vi posso dire tutto. Guarda questa. Guarda questa. Poi mi vede la mia, allora. Facciamo anche questo giochino. Perché vedo che c'è troppo... Giro in giro. Facciamo così. Vabbè. Io vi ho detto le basi. Sta a voi poi... Saper capire... La morale della storia. Allora per il momento... La oxidatione è un montaggio. Allora per il momento in Sono Bologasto... Che il fatto è tutto in navigatore... La linea è a voi. Vabbiamo finito. È whatever che è la Puta! Ho20! Che è la mia la giochina daulators.